Simone Rossi l'ho conosciuto quattro anni fa, avevo bisogno di vendere un appartamento, l'appartamento della mia compagna, me l'ha venduto in la bellezza di 15 giorni, era un bel appartamento e me l'ha venduto anche a più di quello che chiedevo. Sono molto soddisfatto, ci assomigliamo abbastanza a Simone Rossi, molto bravo, molto preparato, si differenzia parecchio dagli altri agenti, i venditori, gli immobili. Il metodo che hanno loro dell'open house è molto valido, io lo ne avevo già assistito avendo vissuto negli Stati Uniti, ho la stessa vendita negli Stati Uniti, è un approccio molto valido. L'open house è la cosa principale, poi dopo c'è tutta la preparazione dietro, non è facile, apriamo, facciamo vedere a tutti, c'è una preparazione dietro, c'è un lavoro, c'è uno studio.